Prenderà il via al ritmo di samba l'edizione 2023 del mercato internazionale di Arezzo, il taglio del nastro della 17esima edizione allo stand brasiliano Maracanã. Oltre 300 gli espositori che arriveranno letteralmente da tutto il mondo e che accompagneranno i visitatori per tre giorni fino a domenica 8 ottobre in un viaggio del mondo in pochi chilometri. Torniamo ai livelli altissimi, oltre 300 espositori, 190 stranieri, oltre 90 eccellenze no gastronomiche non solo del nostro territorio e oltre 20 produttori agroalimentari. E quindi davvero un numero importantissimo che conferma l'importanza di questa manifestazione anche a livello turistico. Tra gli appuntamenti da non perdere il concerto live del gruppo Umagroso in programma sabato 7 ottobre alle 21 in piazza Sant'Agostino. Sì, diciamo che il format rimane quello classico, quindi il giro del mondo del gusto con tanto artigianato, prodotti no food, tante novità da tutto il mondo, ma anche la presenza appunto di eventi collaterali come in piazza Sant'Agostino dove grazie alla collaborazione con i commercianti della piazza ci sarà uno spettacolo musicale molto importante, sabato 7 ottobre alle ore 21 con gli Umagroso live. Confcommercio insieme agli operatori della piazza hanno regalato quindi in queste tre giorni alla città questo bel evento.